TRUMPETE L'unica opzione è intercettare Pandora in cieli internazionali e farla atterrare. Coordinate per incontro in volo. Roger, ho già mobilitato una squadra. Ci siamo, Kormak. Attacco diretto ad Atlas. Voi uscirete dall'Umbra. Sentinel-2-3 in approccio finale. Ricevuto, Sentinel-2-3. Massima priorità al carico. Tutto il resto è sacrificabile. Affermativo Kingpin. Ci uniremo a Guardian-5 al punto d'arrivo per acquisire il carico. Sentinel-2-3. Chiudo. Attivare guanti magnetici! Ok, Mitchell. Facciamoli atterrare. Occhio al vento! Aiutati con i guanti magnetici! La carica! Piazzata! Al mio segnale! Ora! 10 secondi! Andiamocene in fretta! Si sta inclinando! C'è mancato poco! Kingpin! Paracadute fuori! Carico in arrivo! Procediamo! Ricevuto Sentinel-1. Guardian-5 a terra. Pronti a ricevere. Abbiamo il vostro segnale Sentinel-2-3. Controllo droni in arrivo. Kingpin! Reazioni di Atlas! Ancora nessuna attività dalla loro piattaforma orbitale. Genici aggiornati! Stiamo scendendo da te, Ilona. Stiamo scendendo da te, Ilona. Vengere il capitolo alle vostre corti. Sentinel-2! Portare il carico su Guardian-5! Perlomeno sono puntuali. Sì, do il movimento! Contatto! Guardiamo il Lyn-2! We are you! že! Vengite! Vi ammigo che c'e� Messi perdite! Se 112 non ce la farò! Siamo avanti fino a Guardian 5! Uomo a terra! Non arriveremo mai a Guardian 5! Raggiungiamo il carico! Versaglio a terra! Versaglio a terra! Granata! Uomo a terra! Non posso restare qui! Decollo! Negativo Guardian 5! Cagliungo a terra! Portiamo in carico! Versaglio a terra! Granata! Guardian 5! Abbiamo in carico! Attagli! Nemi in carico! Guardian 5! Guardian 5! Carico a bordo! Affermativo! Ricordo! Riparati e copri il decollo di Guardian 5! Colpiti! Colpiti! Genre di! Genre di Guardian 5! Stabilizzatori! Proteggiori all'armi! Anche carri sulla strada! State tutti bene. Mai stato meglio. Siamo troppo in profondità. Dobbiamo arrivare al calco. Qui sembra esserci un'apertura. Bene, muoviamoci. Luci. Mi si gela. Sono ovviato. Andiamo. Occhi bene aperti. Lì sotto si congela. Nessuno può sopravvivere a lungo. Non sparate. Negativo. Nessuna traccia degli operativi senti. Negativo. Stanno mobilitando i warbirds. Lì a destra se ne vanno. Nessun rapporto dalle altre squadre. Più scendiamo e più il segnale diventa debole. Troppo presto, Mitchell. Che non succeda più. Vedo un'uscita. Andiamo. Attenzione! Non ha visuale. Mitchell! Giù! Mitchell, distrugge il ponte! Giù! 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 Di! Di! Giù sono io! dobbiamo tornare in superficie potremmo seguire l'acqua di qua a tutte le unità senti delle in nascosto a tutte le unità senti delle in nascosto a tutti i uniti di un risultato richiediamo estrazione immediata arrivano altri nemici distruggiamoli arrivano altri nemici brighiamoci a sinistra avanzare avanzare a sinistra Guardiamo! Dai, muoviamoci! Massima coperta! Rialza il vento! Kingpin, qui in Settine 2-3. Guardia 5 è in carico e ci avviciniamo alla sua posizione. Ricevuto! Ricevuto Settine 2-3. Raduniamo le truffe. Siamo sopraffatti dalle porte alte. Ripeti Kingpin. Recupero possibile. Ordinate impostate. Unità di batteria in arrivo. Manca poco! Contatto più avanti. Cazzo, hanno il carico. Kingpin, qui in Settine 2-3. Guardian 5 è capace. La sua è in carico. Intercettiamo. Fuoco! Avanti! Ci serve quel carico! Mitchell! Altri vicino al carico! Il carico! Settine 2-3. Unito! Vienniamo a un'altra! Unito! Unito! Chi serve! Copertura! Unito! 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 Un altro gruppo a destra! Gli emisi in arrivo da ove! Dai! Raggiungiamo il carico! Missili! Fidatevi! Gideon! Atlas 1, rapporto! Qui Atlas 1. Quares e Michael sperduti. Cosa? Perché adesso? Potevi scappare da New Baghdad con noi? Così ora non saprei niente. C'erano troppe domande. Dovevo trovare delle risposte. Irons pianifica un attacco preventivo contro gli Stati Uniti. Ha un'arma di distruzione di massa. Biologica. E noi dovremmo seguirti? Se volevo ucciderci... L'avrebbe già fatto. Irons ha tradito ciò in cui credevo. Lo voglio morto quanto voi. Se volete fermarlo, dobbiamo raggiungere il carico. Subito! Ok. Facci strada. Mitchell, Cormac. Prendete gli Stinger e nascondeteli. Atlas 2-1 pronto al recupero. Operativi Sentinel neutralizzati. Ricevuto, Gideon. Hai un bel culo. Ce ne stavamo andando senza di te. Carico acquisito. Affermativo. Sicuro e intatto. Agganciatelo, ma sparate solo al mio segnale. Pideon, rilevo fonti di calore. Sicuro di essere da solo la... Uro! Cormac, manda qualcuno! Mitchell, vieni. Algo, Mitchell! Presto, qui viene il tuo punto. Ecco il trasporto. Stiamo arrivando. Mitchell, salta! Kingpin. Carico al sicuro. Ha ricevuto il peggio nel 2-3. Ottimo lavoro. Abbiamo un ospite con noi. Poi spiegheremo tutto. Cormac, chiudo. Cormac, chiudo. Grazie a tutti.